Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre Lo Spirito di Verità che procede dal Padre Egli mi renderà testimonianza E anche voi mi renderete testimonianza Perché siete stati con me fin dal principio Molte cose ho ancora da dirvi Ma per il momento non siete capaci di portarne il peso Quando però verrà lo Spirito di Verità Egli vi guiderà la verità tutta intera Perché non parlerà da sé Ma dirà tutto ciò che avrà udito E vi annunzierà le cose future Egli mi glorificherà Perché prenderà del mio e ve lo annuncerà Tutto quello che il Padre possiede è mio Per questo ho detto che prenderà del mio E ve lo annuncerà E adesso se avete pazienza vi racconterò nella sostanza Quell'evento di azioni mai viste Che ha per nome di Pentecoste E lo Spirito sugli Apostoli sceso Perché nessuno restasse indifeso Su Maria, la mamma di Gesù E sui discepoli E non li lascio più Erano chiusi in una piccola stanza Impauriti dalla grave mancanza di Gesù Maestro e Signore Loro amico che avevano in cuore Erano lì ed improvviso dal cielo Ecco un vento che squarciò il velo del suono Come un rombo di tuono Un rumore, un forte frastuono Come fiamma che arriva a poco a poco Ecco lingue come di fuoco Che scendevano su ognuno di loro E come segno parlavano in coro E ogni lingua sapevano parlare Come lo Spirito dava loro di dire E chiunque fosse lì ad ascoltare Nella propria lingua li poteva capire E a quel punto non ci fu altro da fare Che cantare ogni lode al Signore Vieni Spirito Santo Di vita d'attore Vieni Spirito Forza dall'alto il mio cuore Fammi rinascere Signore Spirito Forza dall'alto il mio cuore Forza dall'alto il mio cuore